Come si fa ad essere genitori, lavoratori e portare avanti un percorso di laurea così impegnativo? Io sono Anna, sono al primo anno di infermieristica. Oltre all'università e ai figli ho un lavoro, lavoro per conto mio e mi occupo di primo soccorso pediatrico. Vediamo di dare qualche consiglio a qualche genitore che magari è interessato e vorrebbe intraprendere questo percorso. La mia giornata tipo è parecchio intensa. Non ho weekend, non ho momenti in cui dico ah oggi non si lavora o non si studia. Quello che dovrai fare per fare l'università e conciliare i lavori e i figli è questo. Se te la senti provati. Allora la mattina io mi alzo presto ma neanche tanto in realtà mi alzo le sette meno un quarto. Ho quei tre quarti d'ora, un'ora per preparare tutti e due i bimbi. Quindi io parto alle otto di solito, porto uno porto quell'altra e per le nove sono a casa. Dalle nove alle dieci che iniziano le lezioni mi dedico al lavoro quindi io quell'oretta lì dipende cosa devo fare. O mi faccio le consulenze da 40-50 minuti. Se non devo lavorare e non devo fare magari qualcosa sui social o sistemo la casa. Quindi quello che fanno tutti i genitori sistemi i letti piuttosto che pulisci il bagno, prepari il pranzo. Dalle dieci a mezzogiorno e mezzo ho lezione. Se non hai lezione comunque hai i tirocini quindi più o meno gli orari sono quelli. La pausa pranzo dura un'ora. In quest'ora io devo preparare da mangiare, mangiare, recuperare i bambini a scuola e tornare. E questo di solito mi mangia praticamente tutta l'ora, anzi alle volte sono anche in ritardo. Appena arrivo metto la bimba più piccola a letto perché è piccolina, ha bisogno di riposare. E poi inizio la lezione. Le lezioni durano dalle 1 e mezza fino alle 4 e mezza oppure fino alle 7 di sera. Nel frattempo ho il bimbo più grande che fa i compiti vicino a me in modo tale che io comunque ci do un occhio. Se ha bisogno di qualcosa gli rispondo. La più piccolina invece poi dorme un pochino. Poi quando si sveglia lei ha i suoi giocattoli, col pongo, le costruzioni, insomma queste cose qua. Quando ho le pause tra una lezione e l'altra solitamente o faccio qualcosa in casa o gioco con i bimbi. Di solito chiedono tante attenzioni giustamente quindi sono dietro a loro. Oppure vado avanti e mi faccio magari, non so, devo caricare un post su Facebook di un argomento piuttosto che la storia su Instagram. Faccio qualcosa di questo tipo. Poi quando finiscono le lezioni verso le 7 mi dedico alla cena. Ho i bambini da lavare, preparare, metterli a letto. Quando loro sono a letto mi dedico a quello che devo fare. Quindi lavavo i piatti, sistemo la cucina, il salotto che di solito è un disastro. Se devo studiare studio ma solitamente mi dedico proprio al lavoro. Tante volte dalle 7 alle 9 o le 10 ho i corsi, quelli proprio con i genitori. Quindi solitamente lavoro la sera, ecco mi sono organizzata così. Mentre il sabato lo dedico proprio al lavoro. Quello, il sabato è proprio il mio giorno. Mi sistemo la contabilità, mi faccio i miei corsi, le mie consulenze. Organizzo i post magari per la settimana. Diciamo che il sabato i bambini adorano andare dai nonni. Mi chiedono tutti i sabati di andarci così io mi posso dedicare al lavoro. La domenica mattina a volte lavoro. Altre volte invece mi prendo la mattina per studiare, per farmi le mie cosine. E di solito la domenica pomeriggio mi rilasso. Mi dedico proprio al lavoro e basta. È sempre così. Che sia Natale, Pasqua, che sia Agosto. È sempre così. In realtà i miei figli la stanno vivendo bene, ma vi dirò che non hanno mai notato la differenza fra quando io ho iniziato l'università e prima. Nel senso che io il primo figlio l'ho avuto a 16 anni. Quindi lui è sempre stato abituato a vedermi con i libri in mano. Poi ho sempre lavorato, quindi è stato sempre abituato a vedermi che tornavo la sera perché ero stata a lavorare. La più piccola è nata nel 2017, quando io ho iniziato il percorso di formazione per diventare istruttrice. Quindi comunque mi ha visto sempre con i libri in mano anche lei e poi mi ha sempre vista col computer per lavorare. Quindi in realtà loro sono abituati ad avere una mamma che comunque dedica loro del tempo e poi dedica del tempo al lavoro o allo studio. Quindi loro non sanno la differenza fra quando io sono al computer per preparare un articolo per il sito, diciamo, piuttosto che sto magari studiando qualcosa dell'università. Non si accorgono la differenza. Hanno imparato a parlarmi sottovoce magari, piuttosto che aspettare 5 minuti, anche la più piccolina. All'inizio era difficile perché è piccolina, adesso è diventato diventare anche un po' più grande, quindi capisce. Dico, guarda, la mamma deve fare 5 minuti, puoi aspettare, poi ti dedico tutto il tempo che vuoi. È un compromesso che hanno capito anche loro, la gestiscono bene. Poi il concetto è quello di dedicare loro il tempo che serve, giocare, le capriole nel letto. La sera è uguale, la sera non corro perché devo farmi le mie cose per mettere a letto loro. La sera ci fa il bagno tutti insieme, ti leggo la storia, anzi di solito sono sempre due. Si gioca nel letto, il tempo da dedicare loro lo trovo sempre. Loro sono al primo posto, a prescindere da tutto sempre. Consigli per chi vuole intraprendere questo percorso. Se lavorate per una società, per una dieta, per un'azienda e avete gli orari ferrei, la vedo abbastanza ardua, nel senso che comunque, come dicevo prima, gli orari dell'università sono serrati e cambiano spesso. Quindi io ho la possibilità di farla perché comunque sono per conto mio e gli orari me li gestisco io, altrimenti sarebbe improponibile. Se non avete il lavoro e avete solo bambini è più semplice, nel senso che studiare quando si hanno solo bambini in realtà è leggermente più semplice perché hai gli orari dei bimbi e basta. Vi dirò la sincera verità, se io non avessi il lavoro non avrei nemmeno chiesto il part time perché sarebbe gestibilissimo. Basta veramente organizzarsi bene la settimana, questa è una cosa che secondo me è fondamentale. Di cercare di seguire la tabella di marcia e non dire mai lo faccio domani perché se si inizia a dire lo faccio domani non si va più. Questo è un errore comune che si fa ma è una cosa che se decidi di fare l'università lavorando con i figli te lo devi scordare altrimenti davvero no. Non passi gli esami, non fai quello che devi fare per il lavoro. In via di massima fare tante cose significa farle fatte male. Se si vuole fare una cosa buona e fare comunque più cose contemporaneamente ogni cosa ha bisogno del suo tempo e va organizzata in modo tale da dedicarci il giusto tempo che serve per farle tutte bene insomma. Non c'è niente che vorrei fare diversamente se tornassi indietro nel senso che io ho visto comunque che quello che ho studiato mi è bastato per superare gli esami. Vi dirò la verità quest'anno ho studiato poco i miei compagni vedo che gli esami li preparano in un mese abbondante studiano tanto io sono sincera gli esami li ho passati studiando una settimana neanche qualche esame l'ho letto e basta. Questo perché comunque la mia professione mi dà la possibilità di sapere tante cose quindi comunque tante cose che ho visto quest'anno le conoscevo già ed è stata più una ripassata. Però se siete nuovi nel mondo sanitario dovete considerare che dovete studiare assiduamente tutti i giorni assolutamente un esame se no non l'ho passato in una settimana se le cose non le sapete. Io non vedo l'ora di iniziare le lezioni del secondo anno per fare qualcosa di nuovo che non conosco poi terzo anno so che c'è pediatria quindi vabbè il mio pane quotidiano lì veramente sarà meraviglioso. Però ecco in linea di massima se siete freschi nel mondo sanitario dovete considerare che infermieristica è una facoltà difficile ed è tosta. I libroni sono tutti così eh non è che sono libricini piccoli quindi non è un'università facile bisogna impegnarsi tanto però magari ve lo dico l'anno prossimo che faccio cose un po' più complesse che magari non conosco per lavoro quindi dovrò mettermi a studiare più tempo anche io. Per quanto riguarda gli anni futuri sono un po' preoccupata perché comunque con il discorso covid mi è stata data la possibilità di fare tutto online. Non so se riuscirei a gestire il tutto frequentando in presenza perché gli orari non mi permetterebbero di recuperare i bimbi a scuola quindi l'unica speranza che ho è che l'università dia la possibilità a chi lavora o ha figli farò richiesta di fare comunque in didattica a distanza. Non i laboratori ovviamente ma le lezioni ecco so che molti professori sono contro questa cosa perché magari il ragazzo di 18 anni di 20 che sta facendo l'università magari spegne la telecamera e va a giocare a calcetto. In realtà però dare la possibilità di farlo a un genitore o a una persona che lavora sarebbe veramente utile soprattutto perché una mamma o un papà che si iscrivono all'università non è che lo fanno così tanto per perdere tempo perché comunque è un impegno da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche economico. Quindi spero vivamente di non dover abbandonare gli studi magari nei prossimi anni solo perché non mi sarà data la possibilità di fare in didattica a distanza solo le lezioni ecco. Mi vivo abbastanza la giornata ed è il consiglio che do comunque a qualsiasi genitore che vuole intraprendere un percorso del genere fare le cose con calma secondo i tempi che avete io gli esami me li sono organizzati così i miei compagni magari danno 10 esami tutti su un colpo io me li divido per moduli nel primo semestre non dati alcuni nel secondo non dati alcuni mi impegno pian pianino vado avanti li do tutti e si arriva si arriva a passare insomma il secondo anno e poi al terzo e così via. Grazie Anna se vuoi saperti di più trovi i riferimenti al suo profilo Instagram e al suo sito personale in descrizione quelli che alcuni chiamano infobox quando premi sul titolo se sei sul telefono ti appare la descrizione sotto ci sono tutti i link ecco. Se oggi nessuno te l'ha ancora detto ricordati che sei una persona amata capace e apprezzata. Grazie a tutti.